Chi crede di essere questa Cleopatra? Che odore inebriante di baccanale, accidenti! Ti ricordi Totò, no? Del fratellastro di Antonio che divene esiglio a Capua? E appena lui dorme, tu via, ti presenti Ottavio! Ma davvero non sei più il molle Marco Antonio d'Egitto? La signorina Cleopatra dove sta? Nella regina, è là sul trono! Un Totò insuperabile nella versione in chiave brillante della storia d'amore tra Antonio e Cleopatra. Totò e Cleopatra, martedì alle 21 e 15. Tu non sei Marco Antonio? E tu sei accorto adesso!